buon man mano sbraccini sono giordi gas e come potete vedere sono in una nuova location molto più americans japan perché questo perché soprattutto nel college abbiamo la yamaha no a parte gli scherzi ho cambiato location perché di là era infattibile anche se era figo averci la moto dietro potete provare a portare la moto qua su in manzarda ma la vedo un po difficile per le scale a chiocciola magari forse col cross ci arrivo ma il vero problema era il pappagallo che mi rendeva improponibile ogni tipo di video quindi mi sono realistito la location e poi provo a vedere con calma un'altra volta e niente da qui possiamo partire su che cosa vertirà questo video lo so lo so lo so so che ho un titolo forte ma è anche la verità quindi siccome tanti di voi mi hanno chiesto che cosa è successa la mia rsa nel periodo post lockdowns e diciamo non ho risposto un po perché ero stramareggiato un po perché stavo rincorrendo il tempo per riuscire ad andare in pista a cremona perché non avevo la moto assolutamente in grado di farlo mi sono trovato adesso a condividere con voi un consiglio e una cosa che ho imparato a mie spese sto facendo questo video per spiegare a voi quello che è successo a me io penso che chiunque abbia un rsa dovrebbe prendersi 5 10 minuti per guardare questo video memorizzarlo e impararlo perché sono cose assurde che non ci insegno neanche sui manuali ok che però sono cose che ti fanno la differenza fra salvare un motore o bruciare un motore e e bruciare un motore costa quindi mi raccomando sbraccini commentate condividete e se avete un amico che è un r6 condividete questo video con lui perché sicuramente gli potrà fare differenza fra salvare o bruciare il il suo motore l'anno scorso subito dopo la riapertura dal lockdown tutti i belli casati e convinti abbiamo iniziato a riprendere le moto e a scannare come non farlo del resto cos'è successo dopo due uscite ho spaccato il motore dell'r6 ok ragazzi ma senza indugiare oltre vi faccio dire cosa è successo come tutti saprete il livello dell'olio motore si misura con l'asta e va tenuto fra il massimo e il minimo giusto sbagliato 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 ed è proprio per questo che ho spaccato il motore dell'r6 sbagliato no sbagliato sbagliato sbagliati ok questo va bene solo se non avete un r6 come state vedendo anche sui manuale dice testuali parole mettere la moto in pari immergere l'asticella senza avvitarla e controllare il livello dell'olio sia tra il massimo e il minimo ok questo ovviamente come è stato insegnato tutti noi è la realtà cioè funziona così però purtroppo per quanto riguarda l'r6 non è una menzogna ma è una diciamo procedura non precauzionale perché questo perché la coppa dell'olio dell'r6 mi è stato spiegato da chi mi ha rifatto il motore quindi non è che mi sono mentato io purtroppo cioè preferito non scoprirlo però siccome l'ho scoperto è proprio condividerla con voi questa cosa magari vi risparmi un motore e mi offrete una scena siamo tutti contenti la coppa dell'olio dell'r6 ha una forma tale una conformazione tale diciamo che è profonda ok quindi cosa succede che quando insuppiamo l'asticella d'accordo questa non riesce a tenere considerazioni dove arriva il livello massimo quindi la punta è il minimo ovviamente la parte alta ok quella più vicina al al pezzettino in plastica e la svitiamo è la parte ci segna al massimo e teoricamente dove finisce la parte intagliata dovrebbe finire dovrebbe essere livello massimo questa è una concezione non corretta noi teniamo l'olio fra il livello massimo e il livello minimo è come se la moto fosse in carenza di olio proprio perché il livello massimo va inteso ancora più su rispetto a dove è segnato quindi il consiglio che mi è stato dato da da quando rifatto il motore in poi è giordi soprattutto in pista soprattutto in pista ma anche quando siccome l'r6 sono fatte per essere guidate a giri parecchio alti se no cioè non ha senso comprarle tutte le volte guardi l'olio alla moto guarda che sia o al massimo o sopra il massimo ok io e cosa ho fatto da povero cristiano sono sono andato a fare uscite controllabile per l'olio sempre perché controllavo sempre perché mi hanno sempre insegnato a controllare frane e olio prima di partire e da bravo cristiano imparato e studiato lo controllavo fra il minimo e il massimo quel giorno mi ricordo che era verso la metà ok la metà dell'asticella sono arrivato in cima alla raticosa che è un passo toscano se ci siete venite a trovare insomma un giro insieme è arrivato lassù ma li sento a segnare la spia dell'olio e io ho detto cavolo ma sono partito che ci avevo l'olio a metà come non è possibile bruciare l'olio se non mi avrebbero avvisato i ragazzi dietro praticamente ho pensato che siccome il passo al parcheggio in pendenza la moto la mette inclinata quando la metti sul cavalletto vabbè sarà una convenzione delle cose magari se uscirà un po meno olio non lo so otto stacchi a scendere sul passo di gioco sono arrivato a paletta su una curva ero piegato tutto a sinistra grassi in mano il classico rumore che fa una ducati va bene che però noi giapponesi e ben un sentito mai infatti a bosco un d'ognoso ovviamente sono rimasto quattro ore in precare il frattempo che aspettavo un santo che mi ha portato a casa con un furgone e niente da lì poi ho portato la moto a spinta dal meccanico e ho detto guarda il motore fa cacca 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 e ho detto guarda chi c'è da più ognoso da buttar via tutto da rifallo nuovo e infatti e infatti così è stato la magic la metto per tappare il nome di n del concessionario non avesse poi a rompirmi un po' i cari quindi in definitiva quando sono arrivato a portare la moto dal meccanico che cosa è successo beh mi ha detto guarda giordi lasciamela qui che qui sta da rifatto il motore e infatti che cosa del rifatto tutto il motore o almeno tutta la parte alta che elencato di seguito c'è guarnizione della testa ii ec perché ovviamente visto che c'ero ho messo le parti ancora più resi quindi guarnizione della testa e ribassata ii ec pistoni ii ec tutte quattro candele iridium dice esplodono filtro olio olio 300v perché ovviamente ragazzi mi raccomando pasticchi olio sempre il meglio e io vi consiglio vivamente di me di spendere magari tre quattro ore un filetto d'olio a metterci 300v che per gli alti giri delle moto tipo 600 mille sui top motolo ovviamente bulloni biella bronzine banco bronzine biella catena di distribuzione ingranaggio non vi dico i prezzi perché vi piglia male ingranaggio pompa acqua ragnetti frizione scodellino valvole che non so sinceramente che cosa faccio che cazzo serva ma costa 120 euro che penso sia importante scodellino valvole vabbè scodellino 120 euro così e poi niente pasticche delle valvole il litido radiatori e ovviamente gomme anteposte sp pirelli perché pirelli sanno ancora anche me la chiamata e perché semplicemente sono ben sdraiato una volta per le gomme non facciamo bis tutto tutto ad un prezzo modesto di 2800 e spiccioli passa euro quindi insomma ragazzi se avete un po di buon cuore il vostro portafoglio da te a giordi gas seguiti questo video e riempite le bacinelle della bestia della vasca dell'olio piena perché è un casino se no qui il gioco è un pazzo tutto questo mi ha fatto imparare una lezione farsi le moto da soli è importante perché diciamo ci fa imparare sempre cose e perché ci fa amare di più le nostre moto cioè io sono felice che la mia moto l'abbiamo rifatta da soli noi praticamente le nostre forze e grazie appunto a quaderni appunti ci hanno dato persone più competenti di noi però ho imparato anche che per alcune cose soprattutto per quanto riguarda il motore e per quanto riguarda magari la ciclistica chiedere un parere o un consiglio o farsi aiutare da persone con più competenza di noi che siamo sgarelloni di sabato della domenica sbraccini di sabato della domenica è meglio per evitare di trovarsi a pagare 2854 euro di conto semplicemente perché non sapevi che il livello dell'olio del motore di un R6 va tenuto sopra in massimo e non tra i massimi minimi allora che cosa devo dire ah 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 facciamo finta non ho una moto facciamo finta che questa sia una moto ok e la coppa dell'olio è qua giù ok dal momento che te impegni ok se te impegni succede questo ok l'olio che nella coppa dell'olio è a livello pari normalmente no cioè è fatto per ovviamente andare a destra a sinistra quando fai le pieghe è fatta apposso perché è una moto le pieghe vedete quando te impegni l'olio va tutto in fondo ok e questo torna qual è il problema che pesca da davanti l'R6 questo mi è stato spiegato anche questo quando te impegni tutto il liquido tutto l'olio diciamo la parte che è nella coppa quindi che non è già in circolo scende se il motore avesse venuto di pescare in quel momento non lo trova e quindi il motore rimane non lubrificato perché te tenevi l'olio fra il massimo e il minimo si scopre a te vai giù in garage guardi il livello dell'olio e mettilo sopra il massimo e spero insomma non bruciate i motori anche voi l'ho fatto io e spero questo video vi sia servito a qualcosa vi ringrazio per aver visto questo video spero che ne traiate insegnamento che lo diciate subito ai vostri amici sull'R6 o almeno insomma passate bene a voi e dici oh sai ho scoperto sta cosa sta attento all'olio e per chi anche sui manuale che il manuale diciamo è una cosa standard quindi è una cosa indicata prevalentemente per l'uso nella norma ok ma dal momento che tutti noi siamo qui da gas se si da gas bisogna darlo nei criteri giusti e quindi datemi retta datemi retta datemi retta ma anzi non mi date retta quando però poi bruciate l'avevo detto se avete altre domande ragazzi mi raccomando scrivete i miei commenti non fatevi problemi che quando posso vi rispondo perché io ho a cuore i vostri motori è il microfono e per fare in modo io cambio studio perché ci sono i pappagalli e arrivano i gatti quindi sbracini mi raccomando commentate ma soprattutto condividete con un vostro amico che c'ha un R6 e che cosa cosa ho detto non è non è